La Naut. Karma Ez sia. Viking. Karma Ez real sia, allora. Lux Caitlyn, antipatica, perlomeno, antipatichina. Sempre Karma Radiant. We need, we need engage emo in the jungle. We need to roll. Allora ragazzi Ieri urlavo Gnaaaaa Come un pazzo Cosa farò oggi? Boh Sento l'audio un po' basso Non si energizza male Karma is real No Entrambi push Hai i long range In realtà dovrebbero essere molto buoni Di base tu prendi la Q Li slowi E per il zero è il più semplice Prendere la Q E Puoi giocare Strong side Puoi giocare weak side Ah Rakan Dice che è un bel pick Non lo so Nemmeno prendo In considerazione Però sono d'accordo Che sia un bel team Loro hanno la squadra Secondo me Facilmente Raggiungibile Io mi faccio il Radiant E lo Shurelia Ma immagino che dipende In base a quello che voglio fare Con il Radiant È più facile Per rimanere in vita Da Velvet C'è un bel po' di poch Ciao Tutto bene Tu come stai? Ma io mi ricordo che ho tirato molto la corda Oggi evitiamo In bot Pushiamo Non pushiamo Lo sai che non lo so? Potrebbero avere più push Loro Con Lux Caitlyn Rispettiamo Belbet E top lane dovrebbe vincere Atrox contro Horn E basta Non so dirvi altro ragazzi Vi so dire che Varus dovrebbe essere facile a lancare Bot neanche fighteremo molto Ma che caccio Ciao Stefano E Allora andiamo Ho capito King Ma che caccio Bella baulone grabbacino 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 King Ci hanno rubato una Q Va bene nulla di Particolarmente interessante Penso qui pinga molto Abbiamo sicuramente preso la parola di push Forse un po' troppo Abbiamo sicuramente preso Ok ci abbiamo là Mi sembra molto aggressivo Ci potrebbe essere come si chiama Velvet Bot Ma che caccio Ciao Paolo ti augurerei il primo posto alla BCS Ma ti fu il team di Raiko e Fragola Va bene va bene va bene Va bene così King Allora Eal e Flash Vedi quanto siamo forti assieme è incredibile Sto fatto male So farò da Cuqua Vai volevo solo fare un po' di soldi in più Ok ci facciamo le scarpe E una pink direi come back Mi piace Allora no no Non mi piace come back Però la landing phase l'abbiamo vinta But we are the winning Lux no Flash Mid stanno farmando entrambi A me era un po' discutibile Diciamo così Non è un bellissimo trade Top pareggio direi Tra l'altro lato Quando forzo queste robe si produce Perché mi è appena tornato il cooldown Allora dico cacchio lo voglio usare subito Sopra è una gridata Assurda Occhio ai binding E qui un attimo ti distrai Tengo un binding in box Cioè beh se Velvet bot A breve Ok Eh ho gridato Ho potuto evitare Non voglio flasciare We greeted Is alright My bad here No They were Coming E Ezra è un bel Lego player Do Semplicemente Flashare la Ulti di Varus Poi c'era anche un po' Lavora che c'era Breaktas Forse dobbiamo flasciare Subito Immediatamente Eh ma si È uno forte Meccanicamente Ma è anche un tossicone Del cazzo Questo Speriamo non tilti Noi ci siamo Sunti tutti La colpa della morte Di entrambi Che è l'unica cosa Che è utile fare In questi casi No Levi responsabilità Al tossico Il tossico Lui è sempre perfetto Lui non sbaglia mai Top Mi dispiace che perda Ci facciamo male Ma nemmeno troppo Sai Perché C'era Kating lontana Se ti prendono in combo Per bene Muori Ma che caccio Ciao Baolo Buona domenica Grazie Grazie Patatina Nel senso Qui Abbiamo fatto il nostro Cioè lui ha flash Lui ha flashato Non abbiamo preso l'assist Però Nel senso Era giusto Fare quell'R In quel momento Dobbiamo fare la Q Lei Uno ha missato Non l'R Va bene comunque Perché siamo Weak side top lane Quello chiede una mano lì Ma non lo possiamo aiutare Qui Possiamo assolutamente push La wave Magari potevo fare Ecco anche io In basso Un lato attacco Che ci abbiamo Questa Non poteva in realtà Rimare per un'altra wave 3 Direttora pure qua Better save than sorry Mettiamoci questo qui La zona Ok Mi faccio Sì Ci faccio un radiant Ho magic Siamo tankosi Sicuramente Vince Potrebbe vincere Aatrox Questo io lo dubbio Più che altro Mi sembra che sia un po' Un po' nel tilt Queste cose Fanno tiltare Is alright Ci dovrebbe essere Un binding Che mi aggri in bocca A breve Dobbiamo stare molto attenti Dovevo cambiare Il trink Sti cazzi Ormai C'è Belbet Là Lui non muore Andiamo ad aiutarlo And so Ok Il morale Si dovrebbe alzare Dopo un gioco Per il gioco Perché Abbiamo Veramente Preso Tanta Tante Risorse Non so se mi conviene Arrivare vicino Ad aiutarlo Max è là Scusiamo lui Che non si sa mai Mi ha fatto male Ma nemmeno troppo C'è per regolare Qua C'ho un dubbio Che non avete idea Perché Il back È corretto Non ho idea Di quale sia È in cooldown Adesso invece Il back Corretto So qual è Ed è questo qui Ho messo R Perché magari Lo salvo E l'ho salvato Sì Cioè ha impattato Un sacco Sta cosa Cioè ha veramente Cambiato Da Muore come un coglione A double kill A double kill Potremmo maxare A dire Cioè potrebbe aver vinto Il game Ma anche perché Lui era tiltato Come una spazzola Ti rendi conto GGFR4NK Più che king Da 69 mesi Grabe Moccas Grabe Moccas Grabe Moccas Grabe Moccas Grabe Moccas Grabe È morto Forse ho sbagliato A romare Bisogna distratto Io sicuro Ma che caccio Io se se uno vive Posso vincere Lui non dovrebbe Vare là Sono morto Sono molto bullo Non capisco Perché Li volevo ammazzare Con uno di due Ma non ce ne era Alcun bisogno C'è l'erardo a prendere Potrei morire No Ok Prendiamo Una ricaricabile Una pink Scudi Non prenderò mai l'assist Ma Per educazione We can Aral The top Ai king Ah Non è il top Dell'environment Non è malissimo Non so dove vuoi Riprendere Allora Giro per mid Ce l'ho messo di tempo Poi è questa merda That's a fucking Big shield C'è una bella Qua Sti cazzi Che io rubiamo il mio Tanto ho abiettile Per andare alla tor Siamo mid Guardiamo qui E questo Non lo posso prendere Sono tutti top Stiamo giocando Ben a lol Secondo me Cioè nel senso Sto Traccando Abba non sapere La mappa Questo è 1000 gold Quindi non posso Ricollare Che sfigato Ok direi che It's time to go Base Questo è un Gunbag reset Questo è un Gran bel reset Ssssss E Girliamo per 1,2 Adesso Siamo grossi Robert Drake sicuramente Mi piace l'idea di guardare qua dentro Non mi piace l'idea di morire Potrebbe ultare Horn? No O potrebbe ultare ma non penso che sarei stato proprio in profondo pericolo Ciao King Andiamo per la torre mid Che evidentemente non siamo in grado di contestarglielo Questi danno è abbastanza inutile Andiamo per la torre mid Morte a zero? No Bene Adrox muore ma è un cane Quante veloce questa torre Capiamolo insieme Chi c'è là? Lux indoggiabile Porco dove siamo lì? Se avessi scommesso un euro Io no Farò un aldigno Allora Gli Aggredaction com'è? Ma non mi fa impazzire Aggredaction com'è? Mi piace Ok in basso non la puoi mai usare Devo danno quanto è stato lì dentro L'obiettivo qui è aggregare il bar Però almeno Ci fanno male Belvetto è a metà HP Non ha preso nessuno Uno muore Muore in più persone Deve essere a mio avviso un po' più bullo Wukong Trago due minuti Ops Eeeh Mi rifarmo io Sì dai Vai Presi tutti Uscire questo per esempio C'è fatto che Dove è barriano acqua in bocca Io dovrei sentire il bag Della vision Stré Sì un gran batter col Quello probabilmente lo potevamo uccidere E' morto Allora siamo ragazzi in due contro due Ma non gli levo proprio Porco due non gli levo proprio danno E' incredibile C'è una scammata non ci posso credere Ok C'è una scammata Occhio al Baron Occhio qui ci dovrebbero avere del Binding in bocca E' tre per altre ward Mi faccio questo Sti cazzi allo scudo Sarò proprio prezioso a avere delle pink prima del fight Lo sto attento a non farmi invitare a utilizzare la ultimate Quando vedo qualcuno che Da rassare Tipo qui però la userei Ho messo il Baron Incredibile Magia Vado totalmente fuori collezione Ma forse lui è fuori collezione Ma che caccio 22 Ma che caccio Open minded Open minded Così mi ha detto sana Un giorno Be open minded Ok Prima per drake We take soul We win game 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 mi chiamina o l'an merda ciao baolone quando posso vederti al bcs da adc con il magister come support sareste la bot più dominante con 22 titoli e centimetri qui non abbiamo solamente dell'hp a lui ragazzi il brizza l'abbiamo invitato 4 volte al bcs ha sempre rifiutato quando vorrà venire ci scriverà lui non male questo team fight oh yeah E abbiamo vinto Dopo la sofferenza di ieri Dopo tutto il dolore che ci siamo autoinflitti Finalmente ne è valsa la pena Adesso ci siamo levati i pesi dalle spalle E abbiamo dormito Dai cazzo Dai cazzo Finalmente Ma era possibile che verdevo come un cane ogni partita No no Le vinciamo Grazie per il GG Bella dopamina Sì tutta di botto Mi mangio un po' di pasta col tonno ragazzi